Piacere, piacere. Piacere, piacere. E' il mio marido. Onorato, onorato, no, anche io. No, scusi, onorato, il mio nome. Ah, sì, sì, onorato Rossi. No, onorato Bianchi, il notario dello studio di Roma. Ah, sì, sì, certo, io non mi chiamo onorato, mi chiamo Gaetano Rossi, ma io non sono lo stesso onorato di fare adesso. Sì, era così per farmi sentire. Eh, questa è mia mamma, mamma mia, sai, qui con noi, per via dell'età, il tiroide, la sua... L'allergia, è un obbile sentimento. Eh, sì, così, scusate, eh, vado un attimo al cimitero a vedere che non mi prendi ancora il posto. No, forse non è la prima cosa. Questo è il caro amico di famiglia, il signor Lamazza, Gustavo Lamazza. Oh, piacere. Piacere. Ma che bella cazzo. E che stai tappicolosa. Ma lei, ma mia. Perché va a spettare un vecchio babbione? Queste me le sono prese, queste ci sono. Oh, un po' di... Ma, scusate, spero, carini, mi sbaglio, però non dovresti avere una figlia. Questo è un momento importante per mettere qualche doffa a questa pasta, organizzata da quel corrompone. Ma io, ma volevo chiedere una cosa. Ma dico che in questa...